Siamo con Fabio Lenzi. Ciao a tutti e benvenuti a Paolaro. Allora, raccontaci un po' il TRIAL. Il TRIAL è una disciplina ovviamente del fuoristrada che ha la peculiarità, non ha la discriminante del tempo come in quasi tutte le altre discipline, o perlomeno non vince chi va più veloce ma vince chi appoggia meno piedi per terra, piedi per terra che sono considerati penalità. Quindi tutte le volte che viene appoggiato un piede per terra per aiutarsi a superare uno stacolo, una difficoltà perché si perde equilibrio, il giudice di zona, che è una sorta di arbitro che è presente in tutti questi percorsi controllati, assegna il punteggio. Quindi se si appoggia un piede è una penalità, se si appoggiano due piedi sono due penalità, se si appoggiano tre o più piedi sono tre penalità, se invece non si riesce a superare questa zona, la penalizzazione è di cinque penalità che è la massima penalizzazione. Normalmente in una gara di campionato italiano come quella di questo weekend ci sono 12 zone, all'interno di questa zona ci sono delle frecce che indicano il colore della categoria. Nel campionato italiano abbiamo la TRIAL 1 che è la top class che deve seguire il percorso rosso. La TRIAL 2 che è la categoria inferiore che deve seguire il percorso blu, poi abbiamo la categoria dei TR3 e TR325 che seguono il percorso verde e poi c'è il femminile A e la TR3 Open che segue il percorso giallo-verde. C'è poi un'ulteriore categoria che si chiama TR4 che invece deve seguire il percorso giallo, quello più facile. I numeri di questo anno parlano di circa 110-120 partenti ad ogni gara, quindi c'è una buona partecipazione. Riusciamo a offrire una gara un po' dedicata per tutti, in particolar modo la categoria di Open e la categoria di accesso al campionato italiano è stata introdotta due anni fa, ogni pilota ha un pettorale o un numero stampato sulla propria maglia con il colore del percorso che deve fare, questo per aiutare il giudice a capire a quale categoria appartiene. Che tipo di moto vengono utilizzate? Allora, le mototerie sono moto molto leggere, che vanno ormai dai 66-67 kg ai 73-74 kg, ci sono due e quattro tempi ma anche elettriche. Si può partire dai monomarci 50 con le ruote a 16 che sono la prima moto utilizzata dai ragazzi, dai bambini, poi ci sono delle moto 80, di 80 cm3, con le ruote più piccole o più grandi, da quasi passi a 125. La classe regina non ha una cilindrata ben identificata ma ormai la cilindrata più utilizzata va dai 250 ai 300, non si va oltre il 300 perché non serve tanta potenza ma serve molto copia, un motore che abbia una risposta e un tiro fin dai bassi regimi, le nostre moto non hanno la sella perché si guidano in piedi. Quindi uno degli allenamenti con cui mirate di più saranno sicuramente le gambe. E' ovvio che se si nota normalmente tutti i trialisti hanno dei quadricipi ben sviluppati perché quando si guida la moto comunque se non il 100%, il 90-95% del corpo grava sulle gambe. Come si va a saltare così in alto? E' un mix di coordinazione fra pilota e moto. Normalmente bisogna ovviamente sfruttare la potenza della moto, unito all'esplosività che gli si può dare utilizzando la frizione come un launch control che viene fatto in MotoGP, utilizzando la spinta delle sospensioni che vengono qualche istante prima compresse, ovviamente anche la forza di gambe, braccia e il cosiddetto colpo di reno. Il trial è uno sport molto completo perché è basato fondamentalmente sulla tecnica, non c'è velocità e quindi anche la componente rischio è molto ridotta e una volta che si impara a utilizzare la moto da trial si possono tranquillamente utilizzare tutte le altre moto senza problemi. Perché si sceglie il trial? Cosa ti spinge? Allora, per tradizione il trial è uno sport che viene un po' tramandato in famiglia, quindi come nel mio caso, come nel caso della maggior parte dei piloti, c'è un papà appassionato e quindi il figlio vedendo il papà praticare o vedendo la moto in galascia si incuriosisce e decide di praticare questo sport, molte volte anche indirizzato dal padre stesso. Un ragazzo, venendo una gara, capitandoci anche per caso, ha la possibilità di provare la moto, vedere la gara e questo speriamo che contribuisca a far nascere la passione e a portare nuovi praticanti alla nostra disciplina. Grazie a te e benvenuto nella tua prima gara di trial. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.